Vittoria di tappa e trionfo al giro della Toscana internazionale femminile per la polacca malgorzata Jasiska, che ha così bissato il successo ottenuto tre edizioni fa. La portacolori della Ale Cipollini, che conosceva molto bene l'insidioso percorso di quest'ultima frazione, ha lasciato sfogare a turno le fuggitive di giornata Trevisi, della Bianchi Giusfredi, e Bojaskaya, della nazionale russa. Poi sull'ultimo strappo, quello di Valgiano, posto a 7 km dalla conclusione, ha sferrato l'attacco decisivo, arrivando sul traguardo di Capanori da sola con 23 secondi di vantaggio, sufficienti per diventare la nuova granduchessa di Toscana. Alle sue spalle un'ottima Valentina Scandolara, in odor di azzurro, e seconda anche in classifica generale, e una positiva spagnola Anne González-Santeste-Bahn. Tardiva invece la reazione dell'olandese Van Vleuten, che si era presentata alla partenza di Lucca in testa alla classifica. Alla fine per lei solo un quarto posto nella frazione e un terzo nella generale. Nonostante il forte maltempo iniziale, quest'ultima tappa è stata movimentata e ricca di colpi di scena. Hai studiato tutto bene, alla perfezione. Conosco Matraia perché una volta in settimana faccio questa salita. Sapevo dove c'è il pezzo più duro e il mio DS Fabiana Luperini ha detto che fino in cima devo stare cotta e dare tutto. Sapevo il percorso, sapevo dove più pezzo duro in Matraia, ha attaccato di là e dopo ho fatto discesa ancora di mia vita perché mi stupito da sola che sono andata così forte in discesa. Sono girata, non è stato nessuno e dopo ho fatto crono. E pregavo che arrivo. La manifestazione è stata organizzata ottimamente, come sempre, dalla società Michela Fanini Record Rocks di patron Brunello Fanini. Il Toscana è interamente dedicato all'indimenticabile Michela Fanini. La cronaca dettagliata di tutte le tappe, con le immagini e le interviste, nei prossimi due appuntamenti di Toscana Sprint in onda martedì e mercoledì su Sport TVL, canale 193, dalle 22 in poi, con replica alle 13 del giorno dopo.